Benvenuti ad una nuova puntata di Impact Girl, questo è un mini episodio in quanto vi condivido tre suggerimenti pratici per migliorare la comunicazione da un punto di vista proprio concreto e pragmatico con i vostri collaboratori interni, esterni, part time, full time, qualunque sia il modello che seguite. Number one, cerca di essere più breve e conciso possibile. Da quando ho effettuato questa transizione da una situazione in ufficio dove la comunicazione era immediata e quasi se vogliamo abusata, visto che comunicare è molto semplice, quindi ci sono interruzioni continue, persone che viaggiano da una scrivania all'altra interrompendo altri colleghi, persone che ascoltano la musica troppo alta e chi più ne ha più ne metta. Quando ho fatto questo shift una delle cose di cui mi sono resa conto era la quantità di parole inutili che utilizzavo ogni volta che o mi trovavo in una chiamata, in un meeting, oppure scrivevo per spiegare qualcosa o per rispondere a qualcuno. Noi esseri umani o forse noi donne non lo so, questo commento forse non piacerà alle femministe, però sì abbiamo la tendenza a parlare molto, quindi è probabile che questo sia un problema che non avranno i maschietti, io questo non lo so, però una delle cose che ho notato è sicuramente la quantità di parole inutili che utilizzavo. Semplicemente mi allungavo, dilungavo, mi allungavo, mi dilungavo un pochino troppo nelle spiegazioni e questo naturalmente e soprattutto in una comunicazione da remoto non aiuta, non aiuta ad andare dritti al punto e a far sì che non ci siano dei fraintendimenti riguardo a qual è l'obiettivo effettivo di questa comunicazione e qual è la chiamata all'azione, cioè cosa bisogna fare poi. Quindi uno degli esercizi che ho cominciato a fare appena ho fatto questa migrazione e che continuo a fare tuttora devo dire per mantenermi in allenamento è stato proprio cercare di ridurre la lunghezza dei miei messaggi, il che non significa che uno deve essere maleducato, nel senso non vuol dire essere come dire così concisi che sembriamo quasi arrabbiati perché a volte nella comunicazione telematica questo può accadere. No, usiamo pure le nostre emoji, i nostri smileys, le nostre gif, l'importante è che quando il messaggio è particolarmente lungo e soprattutto articolato venga comunque espresso nel modo più conciso e sintetico possibile, magari in bullet points in maniera tale che l'occhio possa anche scansionare il testo e non ci si perda dentro. Inoltre non dimentichiamo il principio che del primacy recency, credo si chiami in inglese, non saprei come tradurlo in italiano ma non ha alcuna importanza perché ve lo spiego, è il principio secondo il quale tutti tendiamo a ricordare la prima e l'ultima cosa che vediamo o che ascoltiamo in una conversazione. Questo cosa significa? Che se proprio proprio non possiamo non dilungarci, almeno cerchiamo di inserire le informazioni principali all'inizio e alla fine del nostro messaggio in maniera tale che quello che non vogliamo venga assolutamente perso, non verrà effettivamente perso. Tip number 2, rinforza i valori che rappresentano un pochino e che riflettono la tua azienda e il team che lavora all'interno dell'organizzazione, piccola, media o grande che sia. Questa è una cosa che può essere fatta in tanti modi, è un suggerimento molto utile per preservare la cultura aziendale laddove sia un elemento importante per te, come spero che sia, ma non solo è anche uno strumento molto molto pratico per conoscere meglio i tuoi collaboratori laddove magari non ci sia l'opportunità di incontrarsi e di scambiare quattro chiacchiere molto spesso. Ripeto, la possibilità di rinforzare i propri valori si manifesta in tante pratiche diverse, quella che io preferisco è una pratica che prende il nome di gratitude spree quindi potremmo tradurla come la corsa alla gratitudine che avviene ogni lunedì all'inizio di ogni chiamata settimanale. Con tutto il team noi abbiamo una sola chiamata nell'arco di tutta la settimana, una chiamata collettiva che appunto è lunedì mattina e che comincia con la gratitude spree che consiste nel praticamente a turno esprimere una o più cose per cui siamo grati quel giorno, quel weekend o quella settimana che è appena trascorsa e condividerla con tutti, qualcosa naturalmente che ci sentiamo a nostro agio a condividere. Questa gratitude spree ha un doppio obiettivo o meglio una doppia conseguenza positiva che poi in realtà ho scoperto nel tempo mentre la applicavamo. La prima è che quando qualcosa magari qualcuno è un pochino down, un pochino giù, è successo la qualunque nella propria nella propria vita, lo condivide con il team ma lo condivide sempre portando quello che è l'aspetto più positivo della situazione. Non lo so se per esempio il sono particolarmente giù perché il mio cane è stato male nel corso del weekend sono però particolarmente grata per il fatto che oggi sta meglio e quindi l'energia e il tono che viene ad essere in qualche modo comunicato è completamente diverso rispetto a quello che sarebbe se invece il fatto venisse raccontato dal punto di vista insomma del problema no? E non invece della bright side quindi del lato positivo o chiamiamolo del lato più costruttivo anche dal quale insomma vogliamo guardare il problema. Il secondo e il duplice risultato di questo processo è che mi consente personalmente di appunto capire se c'è qualcosina che non va magari nella vita personale dei miei collaboratori e nel qual caso ecco capire come muovermi se appunto posso poi dare loro una mano da un punto di vista di riorganizzazione delle proprie priorità. Quindi consente al team di essere un pochino più aperto e trasparente laddove magari se non ci fosse questa occasione la comunicazione non avrebbe proprio e quindi diciamo che molte cose sarebbero date per scontato o non sarebbero mai sapute. Tip number 3 usare daily scrums non credo ci sia una traduzione per questa pratica il daily scrum è qualcosa che è una pratica tra l'altro molto molto di moda è stata molto di moda in realtà tempo fa poi come tutto è molto trendy per un periodo lo fanno tutti poi improvvisamente sparisce non lo sente più nessuno. Noi abbiamo continuato a seguire la pratica dei daily scrum che è qualcosa che facciamo ogni singolo giorno e ci consente di essere tutti sulla stessa pagina soprattutto appunto laddove non ci vediamo praticamente quasi mai se non una volta ogni sei mesi se tutto va bene una volta all'anno e quindi riuscire ad avere un quadro complessivo di quello su cui ciascuno di noi sta lavorando soprattutto per il coordinamento è essenziale. Lo scrum deve seguire un pochino di regole a mio avviso per evitare che diventi semplicemente una to do list dove si senza né arte né parte automatica che qualcuno fa soltanto perché deve essere fatta. Che cosa sono queste regole? Beh innanzitutto per quanto ci riguarda all'inizio di ogni scrum che altro non è per chi non sapesse che cos'è uno scrum una lista di task principali di focus principali che vengono svolti nel corso della giornata all'inizio della lista mettiamo sempre il focus principale per la nostra settimana. Diciamo che ciascuno di noi lavora sempre ad un progetto principale che probabilmente richiede la maggior parte del tempo che però non è l'unica cosa che facciamo quindi il resto dello scrum possono essere un breakdown di quel focus se è un focus particolarmente grande quindi tutte le task che rientrano in quel focus per la settimana oppure altre task che non necessariamente sono collegate a quel focus però una scorsa a tutti i focus di tutto il team è utilissima per capire se siamo tutti allineati o se magari c'è qualche fraintendimento riguardo qual è la direzione che dobbiamo seguire in questo momento. Un'altra regola importante è quella di non fare questi scrum queste liste troppo lunghe quindi di non superare i sei punti che sono già tanti perché poi diventano soltanto delle liste di cose da fare infinite che diciamo è come se un po' andassero a minare quello che è il significato vero dello scrum che è quello proprio di definire un po' le proprie priorità in linea di massima per intenderci non ci dovrebbe essere nello scrum un qualcosa che richieda più di due sì meno di due tre minuti per essere fatta quella non è più ecco quello è un follow up quella qualcosa di veloce che si può fare ma non è necessariamente qualcosa che vogliamo mettere nello scrum quindi nello scrum e si inseriscono tutte le cose che richiedono dai 20 minuti in poi perché possono rappresentare io direi anche mezz'ora in poi che rappresentano un pochino ecco richiedono un'attenzione un focus diversi rispetto a dei follow up a messaggi e mail che magari possono essere fatti in pochi secondi e che in realtà sono più distrazioni che non effettivamente il ecco il deep focus work che invece ci serve per portare avanti i progetti principali una cosa importantissima a questo proposito per far capire come utilizzare lo scrum nel modo più efficace possibile è comunicare ai tuoi collaboratori che lo scrum non è qualcosa che non è uno strumento di controllo perché tu guardi quello che viene fatto di fatto io raramente leggo lo scrum dall'inizio alla fine ma gli do proprio una scorsa generale per avere un feeling generale di quello che sta accadendo anche perché è molto utile a me per definire per come promemoria rispetto appunto a qual è il focus che stiamo seguendo quindi ho notato in passato grandi fraintendimenti riguardo al perché questo scrum ecco diciamo che in un team da remoto è importante ci siano delle delle regole di base non c'è da timbrare il cartellino c'è una grande flessibilità si può lavorare un po quando si vuole però è importante che ci siano delle regole che vengono accordate in modo ecco comune da entrambe le parti una di queste per noi è lo scrum che non è una condizione negoziabile cioè non è qualcosa che puoi scegliere se fare o no naturalmente lo scrum va inviato prima che inizi la propria giornata lavorativa perché ecco mi è capitato anche in passato di vedere scrum arrivare a fine giornata ecco questo ancora una volta diciamo rende lo scrum del tutto inutile lo scrum serve proprio per dare un pochino come gps direzionale per la giornata sia individuale perché poi quando abbiamo una direzione precisa da seguire la produttività va alle stelle sia collettiva perché tutto il team sa dove stiamo andando ecco queste quindi sono le tre tips che volevo condividere assolutamente con voi in questo mini episodio spero che vi siano state utili e come sempre noi ci sentiamo alla prossima questo è tutto per la puntata di oggi spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a biz academy puoi farlo visitando il sito biz-academy.it noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di impact girl ciao 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 ciao